Marco questa sera era importante dare continuità alla vittoria di Treviglio la più c'è riuscita e ha ritrovato un Marco Giuri protagonista. Sì più che altro è riuscita a dare continuità alla partita di Treviglio e poi che sia Marco Giuri che sia un altro non è quello l'importante l'importante è che che abbiamo che abbiamo vinto una partita che si poteva mettere si stava mettendo un po' in maniera difficile dopo essere stati anche sul più venti però ecco abbiamo abbiamo giocato una una partita come 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 giocavamo un po' un mese fa diciamo quindi una partita dove ci passiamo più la palla dove cerchiamo il compagno libero quello che facciamo ogni giorno in allenamento solo che in questo ultimo mese non c'era riuscito molto bene e già da Treviglio e soprattutto oggi abbiamo ritrovato proprio quel vantaggio addirittura un più ventuno anche messo segno nel terzo periodo poi Orlandina è riuscita a mangiare parecchi punti cosa è successo in quel mentre pensavate già di avere la vittoria in tasca c'è stato un calo fisico come si spiega? No non c'è stato non c'è stata l'idea di di aver già vinto perché mancava ancora mancavano ancora 12 13 minuti quindi saremmo folli saremmo stati folli se avessimo pensato che che la partita fosse già finita quindi sappiamo perché ci siamo passati anche oggi che le squadre comunque sono organizzate per recuperare per 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 darci fastidio quindi eh e il basket si va più venti si va meno dieci ma si continua a giocare sia per chi è più dieci sia per chi è meno venti quindi il basket è così e siamo stati bravi a comunque essere sempre in vantaggio mercoledì alle ticci otto e trenta si torna a giocare qui al Carnera contro Piacenza che forse può essere considerata la squadra rivelazione del girone verde sta facendo molto bene sì stanno facendo un gran campionato hanno due americani molto eh diciamo adatti alla alla due e giocano una pallacanestro frizzante eh come un po' come il capo d'orlando eh anche se sono più diciamo se non trovano soluzioni nei primi secondi dell'azione a differenza di capo d'orlando cercano comunque di di sviluppare i loro i loro giochi fino fino alla fine quindi eh non c'è una via di mezzo e dal canto nostro abbiamo già affrontati e sappiamo e sappiamo com'è andata a finire quindi vogliamo solamente tornare in campo e cercare di portare a tre le vittorie particip hingezo sempre per la stedione começando a arrivare i l'argomotRah vie purtroppo mie grazie a tutti per il